La notizia della morte di Federica, la giovane moglie dell'attuale allenatore del Cagliari, ha sconvolto tutti. Federica da tempo combatteva contro un brutto male che alla fine non le ha lasciato scampo. Tantissimi messaggi d'affetto e di cordoglio. Il mondo del calcio si è stretto intorno all'ex centrocampista devastato da questa tragedia. Una vita felice, quella di Fabio e Federica che si sono conosciuti addirittura sui banchi di scuola. Insieme avevano due figli, Mattia e Lucrezia, rispettivamente di 17 e 13 anni. E poi l'arrivo della malattia e il tragico epilogo. Fabio Liverani ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social per ringraziare tutti per la vicinanza in questo terribile momento e per rivelare l'ultimo desiderio della sua compagna di vita, quello di aiutare chi ha provato fino in fondo a salvarla. Grazie a tutti.